Fervono in Casa Verde Amaranto i preparativi per gli stagi in programma da lunedì allo stadio Valentino Mazzola destinati ai giovani. Sulla pagina Facebook ufficiale della San Cataldese è stato pubblicato il modulo di partecipazione da inviare con tutti gli allegati richiesti alla mail sancataldesecalcio.gmail.com oppure tramite messaggio privato alla stessa pagina social. Nel modulo dovranno essere indicati nome, cognome, data, comune di nascita e comune di residenza. Allo stesso modulo vanno allegati documento d'identità, certificato medico di sana e robusta costituzione, nulla osta della società di provenienza se necessario. Infine la firma di un genitore nel caso di candidati non maggiorenni è quella dello stagista. Lunedì 9, spazio alle classi 2006, 2007 e 2008. Martedì 10 e mercoledì 11, 1999, 2000 e 2001. Prima squadra. Giovedì 12, 2004 e 2005. Giovanissimi regionali. Venerdì 13, 2002 e 2003. Allievi regionali.